Passava inosservata, ma era già una minaccia per la sicurezza nazionale. La 19enne è arrestata a Milano con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo internazionale. Ha origini kossovare, ma cittadina italiana e da un po' di tempo si era trasferita a casa del fratello, nel capoluogo Lombardo, dove in apparenza non destava alcun sospetto. A far scattare le indagini del pool dell'antiterrorismo milanese guidato dal procuratore Alberto Nobili, è stato il matrimonio celebrato a gennaio in Germania, dove la 19enne ha sposato un miliziano 21enne, kossovaro anche lui, legato alla cerchia dell'autore dell'attentato di Vienna del novembre 2020, Feis Ulai Kei Tim. Un passo alla volta si introduce sempre di più in questo mondo della radicalizzazione islamica, comincia col dare consigli alle amiche, comincia col fare propaganda, proselitismo. Gli uomini dell'intelligenza hanno ricostruito anche i suoi presunti legami con la cellula terroristica kossovara dei leoni dei Balcani, una ragazzina ma che con il tempo, dicono gli investigatori, cambia identità fino a diventare un potenziale pericolo. Abbiamo indagato il tempo opportuno anche per verificare altri collegamenti, eccetera, ma a un certo punto si lascia capire di essere disponibile al martirio. Gli uomini della Digos hanno sequestrato migliaia di foto e video contenuti nel cellulare della presunta terrorista scaricati dal sito dell'Agenzia di Comunicazione dello Stato Islamico. Tutti elementi di prova elencati nell'ordinanza di arresto del GIP, dalla bandiera nera con la scritta della testimonianza di fede, a scene di combattimenti, esecuzioni sommarie di infedeli con decapitazioni e incendi. Grazie.